ciao a tutti un video che mi è capitato di realizzare mentre stavo facendo un lavoretto so che vi piacciono questo tipo di video nello specifico parliamo oggi di un intervento che si fa se avete un vecchio interruttore di questo tipo quindi quelli vecchi con la leva con i due fusi biloni sotto esistono dei kit di conversione ad esempio se ne vende molto spesso uno che permette di passare da questa schifezza ha un risultato un po più moderno come questo possiamo quindi aggiornarli con un dispositivo moderno che può essere un magneto termico differenziale un salvavita vi lascio dei link in descrizione mi raccomando che sia due moduli largo così perché questi kit di conversione danno poi una finestra finale per un dispositivo a due moduli il kit di conversione consiste in uno un coperchio ok da mettere sul muro che normalmente si abita esattamente nella cassetta che c'è murata vi danno poi insieme un pezzettino di baradine quella su cui si appendono questi dispositivi due viti due tasselli fine del kit il kit costa sugli 11 euro chiaramente il salvavita non è compreso vi lascio tutti i link di quello che può servire in descrizione anche dei tasselli che potreste utilizzare in varie situazioni compresi quelli che vedrete nel video quindi non perderei tempo tagliamo la testa al toro andiamo subito avanti ma prima mi raccomando iscrivetevi che non costa nulla per voi per me è molto importante perché fa crescere il canale procediamo buon video iniziamo quindi con l'apertura del vecchio quadretto ok vi ritroverete questa roba da cui dobbiamo smontare ancora queste due viti state tranquilli fino a questo punto siamo abbastanza isolati ok arrivati qui visto che non bisogna mai dare nulla per scontato dobbiamo capire se la fase arriva da sotto o da sopra e per fortuna arriva da sopra bisogna lavorare in sicurezza bisogna togliere corrente all'alloggio se state facendo una sezione interna oppure bisogna tirare giù il contatore se state facendo il dispositivo di protezione generale che avete nel quadro allora in questo caso io ho messo in sicurezza i fili il dispositivo era appoggiato qua lo tiriamo fuori vedete che a questi brutti morsetti a vite liberiamo anche i fili che vanno poi al carico voilà allora qui abbiamo i fili di arrivo che sono abbastanza lunghi chiaramente bisogna guardare che siano fili in buone condizioni poi dopo metteremo ancora se c'è spazio i puntalini i fili in uscita anche bisogna controllare che siano in buone condizioni questo ad esempio è un quadretto che va a proteggere tutta una zona cucina come si procede si presenta il dispositivo ipotizzando che la barra din vada fissata sul fondo si capisce se siamo in buona posizione o meno direi di sì perché siamo a filo ma in realtà c'è ancora la distanza di qualche millimetro della barra quindi il concetto è tassellare questa roba qua in fondoli ok nel kit ci danno anche due tasselli con le rispettive viti da 5 che magari non sono il massimo io opterei per due tasselli invece fisher duo power l'ultimo tipo poi ci danno due viti di chiusura finali che in teoria vedete dovrebbero andare a abitare qua dentro però in questo caso abbiamo una cassetta che molto dentro perché ci sono le piastrelle queste viti non saranno sufficienti ce ne procureremo di un po più lunghe o potremmo addirittura usare quelle che ci danno in dotazione per il tassello che secondo me dovrebbero andare bene sempre utilizzando la barra in dotazione si cerca di tracciare una linea esattamente a metà che sia più o meno in bolla poi in realtà abbiamo le asole qua per regolarla controlliamo di essere più o meno a metà e lo siamo io poi ho questo che è un vecchio cacciavite dell'intercable che aveva fatto una brutta fine gli ho creato una punta per farlo diventare un punzone si c'entra il più possibile la barra il dispositivo avrà poi comunque un minimo di gioco segniamo un foro segnati i due fori dobbiamo tassellare allora adesso dobbiamo fare i fori quindi mettiamo un qualcosa a protezione per non far cadere polvere dentro il quadretto e soprattutto nelle tubazioni allora in questo caso io faccio prima un foro con una punta da ferro per capire se c'è il vuoto dietro la plastica e infatti così è ok vedete che la punta va completamente a vuoto faccio un foro con una punta da ferro da 6 la plastica è abbastanza resistente il tassello duo power che tende proprio ad allargarsi a fare tenuta anche nel vuoto dovrebbe garantirci una buona tenuta della barra din ora togliamo il sacchetto ok facendo questo movimento cade tutto nel sacchetto va bene mettiamo i tasselli è importante che entrino correttamente quindi se non entrano tutti allargate un pelino ok perché deve arrivare a fare battuta la corona di appoggio ecco perché le forbici hanno anche sempre l'angolo qua diciamo tagliente ok i tasselli sono ben piantati le imbocchiamo con l'avvitatore ma senza tirarle troppo se per caso il tassello tradizionale anche se non due power non tiene allora bisogna arrangiarsi quindi ad esempio si può usare questo questo è un tassello particolare perché una volta entrato dentro questa parte si tira si allarga diventa un ragno completamente dietro alla parete e da cartongesso ma in questi casi quando si è nel vuoto su plastica si usa spesso roba da cartongesso perché sono le soluzioni che abbiamo a disposizione l'importante che venga un bel lavoro adesso qualcuno di voi penserà scusa ma non potevi abitare due parker direttamente nella plastica sicuramente era la cosa che teneva meno di tutte questo tassello funziona in questo modo va preso con questa che è una pinza apposita vedete che tira si allarga e allora poi si usa la vite normale bisogna fargli posto per entrare quindi quel foro nella plastica bisogna allargarlo un pelino anche con una fresa gli si dà un colpetto si vede se entra e lui entra correttamente come si usa si lascia imboccato a pelo si prende con la pinza si mette in trazione si entra dentro adesso speriamo ci sia lo spazio sì e si comincia a tirare ok poi si sgancia non è ancora del tutto tirato quindi lo abitiamo un pelo lo riprendiamo con la pinza e chiaramente la posizione non è comodissima ok ora è in tiro in questo modo abbiamo piantato un filetto che da lì non cederà mai più già solo per fissare una barra di abbiamo dovuto avere trapani attrezzi pinze vari tipi di tasselli è chiaro che se dovete farlo voi a casa in base alla situazione quando fate questi lavori è difficile che abbiate tutto pronto magari dovete comprare su internet su amazon non sapete cosa comprare è per questo che esistiamo noi che esistono i professionisti perché bene o male noi nel furgone abbiamo sempre tutto quello che serve per ogni avvenienza questa è la differenza tra poter fare un lavoro da soli o meno ed è il fatto per cui a volte si paga un professionista per fare un lavoro così che magari dite porca miseria mi ha preso troppo per mettere due viti e montare un magneto termico però quel mi ha preso troppo deriva da intanto anni di esperienza deriva dal fatto che nel tuo costo orario ci sono tutte le tasse le assicurazioni tutto quello che c'è da pagare e deriva dal fatto che magari devi girare con x mila euro di roba sempre sul furgone perché ti può servire per fare determinati lavori quindi quello che riuscite a fare bene quando però chiamate un professionista non dovete rimanerci male se magari vi chiede una cifra che per fare un lavoro del genere non può essere 10 euro ok è importante spiegarlo ma non solo per il mio lavoro per il lavoro di tutti i tipi di professionisti perché chiamare un professionista vuol dire pagare tutto quello che c'è anche prima e dietro non solo quello che vedete scusate la postilla uno sfogo però a volte ci sono discussioni proprio per questi motivi che non vengono capiti va bene i due tasselli in qualche modo li abbiamo messi fissiamo la barra d'in andiamo avanti con il progetto ok in questo caso iniziamo a imboccare la vite lunga del tassello quello metallico poi siccome il tassello metallico è un'ottima soluzione avreste anche potuto mettere direttamente due di quelli se il tassello di plastica tira bene altrimenti si va direttamente di questi poi mettiamo la vite del tassello di plastica ok ora senza usare l'avvitatore si cerca di mettere in bolla e centrata la barra d'in lo tiriamo prima da una parte poi dall'altra fino ad ottenere un risultato del genere con la barra centrata e in bolla adesso magari dall'immagine non sembra in bolla ma lo è fatto questo possiamo presentare il dispositivo che verrà una cosa del genere c'è chi li odia c'è chi li ama ma io in questo caso gli metto comunque i puntalini ok la parte in eccesso la si taglia voilà stessa cosa dobbiamo farlo sui cavi dell'arrivo in questo caso io di nuovo tolgo corrente faccio tutta l'operazione al buio e poi facciamo il collegamento finale ho quindi messo i puntalini sui cavi in ingresso e sui cavi in uscita ho già collegato l'ingresso possiamo collegare all'uscita chiaramente lo spazio e quello che è anche le operazioni non sono comodissime allora in questo caso è un magneto termico bipolare la posizione del neutro della fase non è importante perché lavora su entrambi i poli e non vengono segnati se fosse stato un polo più neutro avreste avuto il morsetto che vi diceva dove mettere il neutro il filo blu ok mi raccomando i serraggi forti 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 poi qua bisogna un po' aggiustarsi perché lo spazio è quello che è il magneto termico va inserito sulla barra poi va agganciato voilà bisogna sistemare i cavi che non diano troppo fastidio bisogna centrarlo il più possibile ok anche facendo un po' di forza i cavi non devono invadere la zona che poi può dare fastidio voilà abbiamo fatto un buon montaggio lui deve stare il più centrato possibile perché sennò sforza poi la plastica quindi sforzatelo un po' prima in modo che quando è libero stia in posizione prima poi di montare il tutto qua c'è un po' di craccia io cerco sempre di lasciare pulito ok una volta pulito prima di chiudere il tutto vediamo che funzioni tutto regolarmente possiamo quindi presentare il coperchio e vedere se riusciamo a mettere le viti ok una ha preso mettiamo anche l'altra ok hanno preso tutte e due le tiriamo senza esagerare voilà adesso vedete che qua in questo caso c'era la piazzarella molto rotta non copre benissimo però direi che comunque rimane un bellissimo risultato rispetto a prima perfetto quindi con 11 euro di kit qualche tassello un po' di buona volontà e la fortuna magari di trovare dietro la plastica cemento, muro, mattoni o qualcosa per cui tengano dei tasselli normali avete reso un po' più sicura la vostra abitazione che magari ha già un po' di anni ma che comunque merita un magneto termico un po' più moderno di quello il kit fondamentalmente è compatibile con tutte queste tipologie di vecchi dispositivi poi verificate bene perché nelle inserzioni su internet eccetera vi fanno vedere con quali vecchi dispositivi è compatibile e con quali no questo è tutto, piaciuto il video, bel like mi raccomando che non costa nulla ci vediamo al prossimo, prossima diretta del giovedì sera o se passate qua in negozio da Torino il kit ve lo faccio vedere ve lo posso anche vendere, pensa un po' ciao a tutti da Massi Dattoli